vai ecco qua con la seconda puntata che valerio mi ha tolto la mano no rega dai iniziamo qui seconda puntata dedicata al general electric j79 avevamo interrotto la prima parte parlando di quelli che sono un pochino i limiti tecnici costruttivi ma soprattutto di funzionamento di un compressore assiale di tipo tradizionale perché proprio da lì parte tutta la storia che poi portò al j79 quindi avanti con questa nuova puntata e se vi siete persi la prima parte la trovate sul canale dicevamo il funzionamento di un compressore il corretto funzionamento di un compressore è sempre dipendente dalle condizioni di mandata e di aspirazione e anche di mandata ma noi oggi ci soffermeremo sulle condizioni di aspirazione facciamo un esempio pratico a terra un aeroplano che deve partire la pressione atmosferica è alta la velocità dell'aria è bassa il motore si troverà ad affrontare i regimi di rotazione che vanno da zero motore fermo fino al massimo potenza di decollo quindi il motore deve risultare efficace e riuscire a funzionare in maniera corretta per un ampio range di giri in volo lo stesso aeroplano si troverà a volare in una condizione in cui la pressione esterna è molto bassa perché la pressione diminuisce con la quota viceversa la velocità dell'aria in ingresso è molto elevata non solo il motore si trova a funzionare a un regime di giri costante regime o regime rega non lo so come si dice ma viene da dire regime perché nei commenti qualcuno me l'ha già fatto notare di giri costante ora facciamo finta di essere i soliti progettisti aeronautici e dobbiamo progettare un motore col suo bel compressore assiale conviene progettarlo per ottimizzare nel funzionamento ad alta quota e ad alta velocità o per quei due momenti in cui il motore si trova a girare a bassi giri ovvero decollo atterraggio ovviamente la risposta è la prima tutto questo per dire che soprattutto questo è molto vero nei primi compressori assiale nei primi motori a getto facciamo anni 50 60 70 non esiste il compressore perfetto un compressore sviluppato per operare in maniera ottimale sia in termini di spinta che in termini di consumo di carburante alle alte velocità e a quota elevata difficilmente riuscirà a funzionare altrettanto bene alle quote e velocità più basse è vero anche il viceversa questo è un grosso limite perché diventa difficile soprattutto alle basse quote e questi primi motori davano dei problemi cioè i motori nei transitori con la manetta a metà o magari quando il pilota dava manetta troppo velocemente quindi il motore prendeva troppa velocità in maniera repentina questi motori si scassavano andavano in stallo iniziavano a fare fenomeni di pompaggio vibrazioni si staccava le alette e era pericolosissimo perché una piantata a motore quando sei a bassa quota in fase di atterraggio è il momento peggiore in cui può succedere se ti si pianta il motore che sei a 30 mila piedi a meno che non stai pilotando un hawker typhoon bene o male puoi provare a planare i typhoon venivano giù come dei feri da stiro puoi planare ti puoi lanciare hai tempo per cercare di riavviare il motore è grave ma non così grave se succede a bassa quota che sei a 20 metri da terra ti si pianta il motore inizia a vibrare inizia a sputacchiare inizia a fare le fiamme dalle prese d'aria diventa un casino e si rischia di lasciarci la pelle quindi all'epoca torniamo finalmente al nostro j79 e agli anni 50 e la f 104 all'epoca divenne evidente che era necessario andare oltre al classico turbogetto o quelli che erano i motori degli albori per cercare di costruire motori capaci di funzionare bene in un ampio range di giri capaci di funzionare in maniera affidabile anche alle quote e velocità di rotazione del motore più basse quanto alle quote più elevate in un momento in cui il motore girava a un regime di giri costante quindi bisognava riuscire a creare motori che fossero avessero un funzionamento un po più rotondo ok un pochino più rotondo affidabili che consumassero poco alle basse quote che funzionassero altrettanto bene alle quote più elevate mi sono appena ripetuto ad ogni modo in che modo i costruttori hanno risolto questi problemi le modalità sono diverse allora una delle più banali e basilari che venne impiegata all'epoca e che ancora oggi si utilizza ma per altri motivi è quella delle valvole di spurgo le valvole di spurgo sono valvole lo dice la parola stessa di spurgo che spurgano aria che sono situate nei punti un pochino più ad alta pressione del compressore e utilizzando sensori ma tutta roba analogica rega qua era gli anni 50 cioè non c'era un controller digital utilizzando sensori cellule barometriche robe di sto tipo misuravano la pressione e facevano delle delle comparazioni no fra velocità dell'aria pressione regime di giri temperatura misuravano i parametri e se registravano che qualcosa era fuori posto queste valvole si aprivano e lasciavano scaricare la pressione dal compressore in modo da diminuire la pressione negli stadi più avanzati e permettere al compressore di respirare meglio e di lavorare meglio quindi queste sono valvole di spurgo che sono le stesse che oggi vengono utilizzate per ad esempio spillare aree dal compressore e che ne so alimentare i sistemi di bordo l'aria condizionata a bordo degli aree civili e altre cose del genere un'altra idea molto intelligente molto complicata che venne sviluppata all'epoca e che debuttò su un motore eccezionale di cui parleremo a tempo debito ovvero il bristol olympus che poi diventerà rolls royce olympus il motore del concorde è l'idea di avere un compressore diviso in due sezioni bassa pressione alta pressione e che girano su due alberi concentrici alimentati a loro volta da due singole turbine quindi abbiamo a monte del motore abbiamo due turbine che una fa girare un albero e mi alimenta il compressore di bassa pressione l'altra turbina fa ruotare un albero concentrico al primo che mi alimenta un compressore di alta pressione questo perché sempre tornando dal discorso di prima no al funzionamento del compressore assiale e a quelle che sono un pochino le sue limitazioni se tu hai un compressore mettiamo a 10 stadi con la pressione che aumenta gradualmente diventa anche difficile fare convivere sezioni del motore che lavorano a bassa pressione con sezioni del motore che lavorano ad alta pressione idealmente sarebbe opportuno che ogni stadio del compressore lavorasse alla sua velocità ma ovviamente è impossibile mettiamo un motore a 10 stadi costruire un motore con 10 turbine e 10 alberi coassiali quindi molto semplicemente all'epoca semplicemente mica tanto perché poi dopo ci misero degli anni per svilupparlo si pensò di creare due alberi concentrici compressore di bassa compressore di alta con le due turbine oggi alcuni dei motori più avanzati perdonatemi ma non mi ricordo il nome del motore credo che sia un rolls royce è un motore a tre alberi coassiali un albero mi alimenta il fan uno mi alimenta la turbina e il compressore di bassa pressione uno mi alimenta il compressore di alta pressione in modo che ognuno ruota alla sua velocità ideale il motore è ottimizzato in tutto quello che è il suo funzionamento e l'epoca l'idea di avere alberi coassiali è molto buona all'epoca però venne scartata principalmente per un problema di difficoltà costruttive voglio aggiungere una cosa importante stavo montando il video mi sono accorto di aver tralasciato un motore importantissimo soprattutto ai fini di questa storia ovvero il turbo union rb 199 turbo ventola che equipaggiava il famoso tornado e che era caratterizzata da una costruzione a triplo albero concentrico tre alberi coassiali pensate uno per alimentare il compressore di bassa pressione uno per alimentare il compressore di media pressione e uno per alimentare il compressore di alta pressione quindi qui abbiamo che il compressore assiale proprio per ovviare a tutti quelli che sono i problemi che abbiamo elencato fin qui era stato diviso in tre sezioni bassa media e alta pressione ciascuna girante sul suo albero ciascuna alimentata dalla sua turbina addirittura pensate che per eliminare gli effetti giroscopici del motore considerate che comunque un motore con un diametro così che gira ad alto numero di giri e crea degli effetti giroscopici che possono influenzare negativamente quello che è il volo dell'aeroplano pensiamo ad effetti come l'accoppiamento inerziale ma ne parleremo un'altra volta nel turbo union motore del tornado abbiamo detto se non ricordo male il compressore di bassa girava in senso opposto rispetto ai compressori di media e alta proprio per eliminare gli effetti giroscopici quindi un motore di una complicatezza eccezionale ma nonostante questo un motore è estremamente affidabile ma come ho detto avremo modo di parlarne con un video dedicato adesso rimaniamo sul j79 la terza idea la dobbiamo sempre alla rolls che dopo che l'industria aeronautica tedesca adesso prendete con le pinze quello che sto per dire e non voglio parlare di guerra e di politica semplicemente da appassionato di volo a me un po' dispiace che quella che era tutta l'industria aeronautica tedesca della seconda guerra mondiale che ha dato vita ad alcuni degli aerei più belli ma anche dei motori più affascinanti interessanti della storia è stata letteralmente vaporizzata con la fine della guerra poi certo molti di questi progetti hanno poi vissuto una seconda giovinezza sia negli stati uniti che nell'unione sovietica rispettivamente grazie alla operazione paperclip o all'operazione oso amkiov credo si chiamasse adesso lo scrivo qua sotto vado a vedere che rispettivamente stati uniti e unione sovietica portò tecnici tedeschi però è un po' un peccato che esaurita ecco vaporizzata polverizzata l'industria aeronautica tedesca e tutto il suo know-how lo scettro del potere finì in gran bretagna principalmente in mano alla rolls royce che per prima sviluppò l'idea ci stiamo arrivando finalmente ci ho messo un po ma ci stiamo arrivando è la terza idea per ottenere motori a getto dal funzionamento un pochino più rotondo ovvero l'idea delle palette statoriche ad angolo variabile quindi abbiamo un compressore con le palette statoriche che possono muoversi cambiare angolo di calettamento in modo da andare a variare quello che è il loro angolo relativo rispetto alle palette del rotore per ottimizzare il modo in cui gestiscono e utilizzano l'aria a seconda del regime di giri del motore l'idea nacque in gran bretagna da dei tecnici della rolls royce poi non se ne fece nulla si portò avanti l'idea del motore a doppio albero e quest'idea venne ripescata da un tecnico tedesco come al solito no dai da un tecnico tedesco in realtà lui era si chiamava gerhardt neumann tedesco di origini ebrei lui se ne andò dalla germania all'inizio negli anni 30 andò in cina in cina iniziò a lavorare per l'aviazione cinese per cercare di contrastare l'avanzata dei giapponesi ricordiamo che i giapponesi durante la seconda guerra mondiale hanno fatto i disastri in cina credo che la cina ad oggi sia la nazione col maggior numero di vittime durante la seconda guerra mondiale non se ne parla quasi mai ma chiedete a un cinese cosa pensa di un giapponese poi vedrete anche se oramai sono cose finite un po' nel dimenticatoio poi una volta finita la guerra neumann finì a lavorare in america per la general electric la general electric che oltre ad avere un know-how spaziale nei confronti di tutta quella che è il mondo delle turbine a gas non dimentichiamo infatti che la general electric fu l'azienda che negli anni 40 sviluppò il turbo compressore ma ne parleremo a tempo debito e neumann propose nel momento in cui la general electric venne richiesto un nuovo tipo di motore capace di operare bene in un'ampia varietà di condizioni di volo di regime di giri di velocità propose quest'idea delle palette statoriche ad angolo variabile e fu quindi così che nel 1954 iniziava a girare al banco il primo xj 79 nuovissimo turbo jetto prodotto dalla general electric sotto la supervisione di gerhardt gerhardt neumann chiamato anche tipo hermann the german esatto lo chiamavano così aveva questo nomignolo è un innovativo motore turbo jetto puro con un compressore assiale a 17 stadi rapporto di compressione 13 a 1 ma qui le cose si fanno interessanti primo motore a getto della storia che poi entra nel servizio nel 55 a bordo dell'f 104 primo motore a getto della storia dotato di palette statoriche a geometria variabile nel general electric abbiamo detto 17 stadi di compressore di questi i primi sei ovvero quello che possiamo definire un compressore di bassa pressione erano dotati di un sistema che permetteva di variare in volo anche qui con sensori sistemi che che decidevano per conto loro non era in mano al pilota di variare l'angolo di calettamento delle palette statoriche in modo di adattarsi in maniera ideale a quelli che erano i le necessità del motore e basta tutto tutta questa manfrina questo video infinito per arrivare a questo il general electric j79 se non bastassero le sue incredibili performance nelle ultime versioni compost bruciatore riusciva a sviluppare quasi 10 tonnellate di spinta era capace di spingere aeroplani come l'f 104 ma con l'f 104 è anche relativamente facile ma il phantom il b58 ha velocità prossime a mac 2 il phantom di più di mac 2 lasciandosi dietro una lingua di fuoco di 6-7 metri un motore incredibile che però fu il primo motore a getto della storia ed è qui il vero punto cardine attorno a cui ruota questo video il primo motore a getto della storia entrare in servizio dotato della tecnologia delle palette statoriche a geometria variabile una tecnologia che poi negli anni successivi venne implementata su diversi altri motori un esempio è il turbofan general electric cf6 vi metto qua delle foto ne ho beccato recentemente uno in germania in un museo in cui potete vedere nel dettaglio tutto quello che è il 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 sistema di di calettamento e di variazione del calettamento delle palette statoriche se riesco in montaggio metto anche uno spezzone di una storia su instagram che ho fatto quel giorno in cui si vede bene allora vi faccio vedere una roba qua abbiamo un genero electric cf6 oddio turbofan abbastanza grosso secondo me ha un diametro di due metri due metri e mezzo e motore del boeing 747 boeing 767 anche la md 11 ma dettaglio interessante guardate il motore alle come il j79 dell f 104 o del phantom alle palette statoriche del compressore della parte calda quindi vedete questo qua è il fan questo è il turbo qua dentro c'è il motore a getto vero e proprio a geometria variabile con questo attuatore guardate questo pistone si muove su giù questa leva si muove e questi uniball tirano e muovono queste levette che cambiano l'orientamento delle palette statoriche interrompe riparto e una tecnologia che ha funzionato bene rendeva questi motori e soprattutto rendeva il funzionamento di questi motori molto più rotondo con un notevole risparmio di carburante che ovviamente è relativo quando si parla di un f 104 parlare di risparmio di carburante ma comunque c'era un risparmio rispetto ai motori precedenti una tecnologia che è rimasta in auge per molti anni soprattutto anche nel corso della guerra fredda anche in unione sovietica uno di questi motori è il famoso yulka al 21 che fra i tanti equipaggiò anche i primi prototipi del su 27 il famoso sukoi t10 che era un turbo getto che per certi versi ricordava il j79 perché anche lui aveva le palette statoriche a geometria variabile una tecnologia che poi negli anni successivi è caduta in disuso a favore di motori più tecnologici soprattutto a livelli di sistemi di controllo sistemi di controllo digitali valvole di spurgo anche loro controllati digitalmente ma soprattutto in favore di motori ad alberi multipli l'abbiamo detto prima motori che hanno al loro interno un compressore di alta e bassa pressione alimentati a loro volta da due o più turbine e con che con alberi coassiali girano a velocità diverse in maniera da ottimizzare ulteriormente quello che è il rendimento termico e termodinamico del motore in tutte le condizioni di volo questo tuttavia non toglie al j79 lo scettro di essere uno dei una delle vere superstar nell'ambito dei motori a reazione nella storia dell'aviazione perché oltre a una potenza elevata riusciva a funzionare bene in diverse condizioni ma in tutto ciò era anche stato studiato come motore relativamente semplice tanto che ha avuto una carriera lunga 30 anni se non ricordo male nel corso dei quali ne sono state costruite oltre 17.000 unità che sono numeri veramente notevoli per quello che è un motore a reazione e pensate che Gerhard Neumann assieme ad altri suoi soci ma anche assieme a Clarence Kelly Johnson negli anni 60 credo nel 58 59 vinse il trofeo Collier che è un trofeo che viene messo in palio dall'ente del volo statunitense non ricordo il nome se non credo sia la FIA vabbè comunque dall'ente federale dell'aviazione che ogni anno consegna questo premio al tecnico ingegnere costruttore a chi per lui comunque per un'onoreficenza che viene data a chi riesce a far fare dei balzi in avanti notevoli a quella che è la tecnologia nel mondo dell'aviazione nel 58 lo vinse Neumann assieme ripetiamolo ad alcuni suoi colleghi compreso Clarence Kelly Johnson proprio grazie al progetto del J79 uno dei motori lo possiamo dire tranquillamente più interessanti che abbiano mai volato ma di sicuro molto probabilmente il miglior turbojetto puro che sia mai stato creato dopo di lui usciranno motori migliori ma non saranno più turbojetti saranno dei turbofan fra questi due motori di cui parleremo a tempo debito ovvero il Pratt & Whitney F100 e il General Electric F110 due turbofan che sono stati costruiti assieme come parte di una sorta di sfida interna fra i due grandi case costruttrici ma questa è un'altra storia se questi argomenti vi interessano io vi mi sento di consigliarvi se volete uscire un pochino dal classico video su youtube volete qualcosa di diverso qualcosa di tattile qualcosa che un pochino rimanga io mi rendo conto che c'è un po' un conflitto di interessi e non sono il miglior venditore del mondo a mettere queste informazioni dopo un video di 40 minuti ma va bene e vi consiglio l'acquisto del mio magazine che si chiama di brutto qua vedete questa è una copia rovinata di brutto volume 5 è l'ultimo uscito in maggio fra pochi giorni il 6 novembre aprirò i preordini per il di brutto volume 6 preordini perché rega stampare un libro così costa delle cifre mostruose e io lavoro sempre in preordine di modo che stampo quello che vendo senza dover andare a indebitarmi o rovinarmi questo è il di brutto volume 1 è una riedizione lo trovate ancora sullo shop del sito vi metto il link qui vi metto il link nei commenti su questo volume in particolare c'è trascritto tutto quello che è il video in cui spiego il funzionamento dei motori delle sr 71 il tutto ve lo voglio far vedere aspettate con schemi disegni ragionamenti note a margine fotografie e in una maniera che vi rimane ve lo potete mettere dopo sul water guardate che bello io ho questa passione per i motori d'ero ve lo potete mettere di fianco al water o dove preferite in salotto ovviamente non si parla solo di quello abbiamo qua mi ricordo quando ebbi modo di provare la jaguar xj 220 e e basta questo è quanto ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto di brutto lo trovate sullo shop di rolling steel ci vediamo al prossimo video dove ancora non so di quale motore parlerò mi inventerò qualcosa come al solito ciao ragazza buona giornata a tutti non provarci più col per favore lo stronzo sta cedendo lo stronzo sta cedendo lo stronzo sta cedendo lo stronzo sta cedendo